Ciao a tutti, sono Giorgio Casu, ho 80 anni, sono nato a Doristano e viva Doristano. Mi trovo alla Boero Clinico perché domani, 8 gennaio, devo fare l'intervento di denti fissi in 24 ore. Mi sono rimasti 6 o 7 denti e non funziona più niente. Mi si gonfia un po' la gingiva e mi creano molti problemi. Non riesco a mangiare bene. L'altro aspetto è l'intervento, che si riesca a non avere problemi, che si riesca ancora a mangiare un po' come si deve, mangiare bene. Ci vediamo alla prossima intervista. Io mi chiamo Casu Giorgio, sono nato a Doristano, il 19-1-50, residente a Doristano. Ho fatto l'intervento per mettere i denti fissi in 24 ore. I problemi che avevo prima dell'intervento erano continuamente da estrarre perché delle forticarie e quindi continuamente stavamo mettendo qualche dente per cercare di tarare avanti. Mero sempre, sempre, continuamente dietro i medici dentisti. E continuamente avere tutte le sere dove toglierli, lavarli in continuazione. E ci erano sempre qualcosa che non andava. Faticavo a mangiare. Non ho avuto dolore durante l'intervento. Per fortuna consiglierei la clinica a Boero perché sono stato bene. Col personale dello studio mi sono trovato benissimo. Ho trovato permesso, gente educata e sa fare il suo lavoro. I benefici che ho ottenuto sono, e sono bello fissi, polpo di dentifricio, spazzolino e le cose vanno bene. Che non stai togliendoli in continuazione, pulendo tutto il pranzo, il cena, la mattina. Ho una bella bocca. Quello che mi è piaciuto di più è avere i denti bianchi.